Ben trovati a questa nuova puntata di Work in Time, in studio con me Marisa Rodriguez, titolare di Work in Italia, benvenuta. Bentornata Maria Pia, un bacione a tutti quanti voi. Allora, continuiamo a parlare di formazione. Non si comincia mai una frase con allora, dovrò ricordarmelo. Abbiamo parlato di formazione obbligatoria la scorsa settimana, ovviamente ribadendo questo concetto. Oggi vogliamo un po' mettere in risalto quali sono le reali difficoltà che i datori di lavoro possono incontrare per applicare questa norma. Allora, parliamo di formazione e poi parleremo anche di fondi interprofessionali. Marisa, quali sono le difficoltà che incontrano i datori di lavoro nel fare formazione dipendenti, nel fare formazione come dicevamo anche loro stessi in prima persona? Guarda, questo che sto per dirvi è frutto dell'esperienza. Sono tanti anni, tanti anni, sapete che siamo un ente accreditato per la formazione. Siamo stati i primi in questa regione nostra a affrontare l'obbligo della formazione, principalmente, lo devo dire, sottolineare, perché se non si fa formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai laboratori, ci sono le sanzioni. Ma io dico, ma quanto tempo ci dovremmo mettere ancora per vedere che fare formazione ai laboratori arricchisce il laboratorio e conseguenzialmente arricchisce l'azienda? Perché un laboratore preparato, formato, sente che qualcuno si preoccupa di lui, no? Dicevano Henry Ford, le dicevano che faceva tanta formazione, le hanno detto, ma lei, signor Ford, non ha paura di formare i suoi laboratori con questa formazione, ovviamente, che vadano via da un'altra parte con questa formazione con la quale... E Henry Ford le rispondeva, guardate che ho moltissima più paura di non fare formazione e che mi rimangano dentro. Dunque, questa è una cosa, già da sola, si spiega che le persone con successo, con éxito nella vita, sono quelle che hanno creduto nella formazione. Perciò, uno dei primi ostacoli a fare una buona formazione in hacienda, spesso e volentieri, troviamo i vertici nelle haciende, datori di lavoro, dirigenti, persone che non credono del tutto che la formazione sia un valore importante nelle haciende. Quindi, ho messo come primo ostacolo che i vertici delle haciende non credano ancora nel valore della formazione. Se non credono nel valore della formazione, bisogna cominciare per spiegarli fino a che punto è necessario, come sia importante e quando va fatta questa formazione e come va fatta questa formazione. Un altro punto, che anche se credono, perché non tutti i datori di lavoro o i dirigenti se negano a fare una formazione efficace, una formazione qualificata, è che anche quando si credono troviamo spesso difficoltà nell'individuazione dei reali fai bisogni formativi. Perché poche volte sono sentita dai vertici delle haciende per dire, vabbè, visto che fai formazione in materia di sicurezza, vogliamo parlare della necessità di unirsi tutte le persone, di comunicare, di dire al mattino buongiorno, al pomeriggio buonasera, grazie, se mi hai dato una mano a risolvere un problema, eccetera, eccetera. Mi piacerebbe molto, infatti, trovare persone sensibili a questo punto, che tengano in considerazione la forza di una buona formazione e di utilizzare la sicurezza come scusa. Perché no? Poi, un altro punto, la eccessiva frammentazione dei obblighi formativi. perché non abbiamo avuto un legislatore sensibilizzato a che questa sicurezza si deve, ovviamente, integrare con il resto della formazione in hacienda. Allora, fai programmi formativi che qualifichino le persone, una volta fatti, accade poco. Quando si fanno contratti di aprendizato, beh, spesso vedo che anche quelli è un obbligo di legge, e non si vede come una vera opportunità, quindi è benvenuta la sicurezza che, ovviamente, obbliga a fare la formazione, ma anche questa sicurezza ha le sue picche, che sono queste di fragmentare tremendamente, come abbiamo visto anche nell'altro programma, il numero di corsi di formazione, piuttosto che fare una formazione che integra tutto quanto. Perché alla fine tutti devono sapere di tutto, penso io, no? Probabilmente, ecco, andiamo direttamente al punto successivo, nasce proprio da questo, no? Io direi che nasce da questo la difficoltà. Sì, questo è importante, perché quando si programma il lavoro, si programma solo il lavoro. Non si programmano momenti di formazione. Allora, si trova difficoltà, un difficile equilibrio tra formazione e lavoro, senza rendersene conto che spesso e volentieri la formazione, sì, significa fermarsi un attimino la produzione, però è andare un po' indietro per prendere la rincorsa e andare più lontano dopo. Questo è la formazione, quindi è un aleato, non è un ostacolo la formazione nelle haciende. E per ultimo, la mancanza di adiguati, spazi nelle haciende spesso e volentieri non troviamo spazi per la formazione. È vero, noi come WorldGate offriamo sempre la nostra, la formativa, ma sarebbe auspicabile la formazione quando si parla di sicurezza e di altre cose, farla in azienda e trovare un spazio dove tutti possono dire la loro, l'impressione, parlare delle cose che quotidianamente accadono, quindi il luogo ideale è, in questo caso, l'azienda per poter fare una formazione vera e qualificante. Ecco, io credo che sia un po' questi punti che hai portato alla nostra attenzione, che fanno parte poi di tutta l'esperienza che hai, che hai raggruppato nel corso degli anni, ovviamente rilevano questa mancanza, quello che dicevi all'inizio, insomma, le aziende credono poco ancora nel valore della formazione, che in realtà ci stai dicendo, noi in ogni puntata, essere molto molto importante, anche poi per creare quel senso di team, di lavorare insieme, anche far parte di un'aula di formazione, spesso può essere utile. Il momento adeguato. Anche per questo. È il momento adeguato. La formazione però presuppone anche dei costi, no? Per l'azienda, per cui ti chiedo, esistono anche degli strumenti, insomma, lo Stato mette a disposizione degli strumenti che possono, in qualche modo, aiutare anche economicamente le aziende, no? Perché si guarda anche quello. Certamente, nel bilancio di un'azienda ovviamente tutto riflette un costo, no? Se prendo il personale, già le sto pagando, eccetera, eccetera. E proprio quando le sto pagando, si paga tramite una busta paga, dove dentro della voce delle retenzioni si trattiene anche un 0,30% dell'importo pagato, l'ordo, al laboratore per destinarlo a formazione nelle aziende. E non è una destinazione che sia, o per la sicurezza o quello che è, formazione dei laboratori. Quindi, a realizzare dei buoni piani formativi, ci aiutano i fondi interprofessionali. Ecco, la prima cosa che dovete fare è chiedere ai vostri consulenti del lavoro se vi hanno segnato, tramite l'F24 ovviamente, eccetera, eccetera, se vi hanno segnato a un fondo interprofessionale. Quel fondo interprofessionale pubblica periodicamente degli avisi dove agevolano anche le aziende molto piccoline finanziando anche se non hanno maturato i soldi sufficienti, perché essendo un 0,30% viene a essere spesso volentieri non arriva manco a 50 euro annuo per ogni laboratore. Perciò bisogna vedere gli avisi di certi fondi interprofessionali perché favoriscono spesso anche la partecipazione di corsi comuni con altre aziende e quindi possono ovviamente agevolare le aziende in tutto o in parte, non è detto, ci sono fondi che a me piacciono molto quelle che dicono tu azienda fai il corso, io dopo ti mando indietro o l'80% o il 50% a secondo che tipologia di formazione, a me piacciono molto, questi fondi sono fondi seri, prima tu spendi, io dopo ti pago. E sono anche meno burocratizzati. Ecco, sono fondi facilmente gestibili, nel senso come ci sono delle difficoltà, si possono incontrare delle difficoltà anche lì o no? Sì, infatti questo ti stavo anticipando già un attimino, le difficoltà che abbiamo nell'utilizzo dei fondi interprofessionali, prima è che la maggior parte delle piccole aziende non le conoscono, quindi possono soffrire poco, perché? Perché non esiste un professionista specializzato, un consulente che gli dice guarda esiste questo, qui è la... sono a merce della pubblicità degli stessi fondi e quindi spesso sono dentro un fondo che non è il più adeguato, quindi chiedetelo invece ai vostri consulenti. Quindi la prima, l'obstacolo, mancata informazione adeguata, consulenza lo stesso, adeguata. Difficoltà di organizzazione da parte delle piccole e medie aziende di questi corsi, perché questi corsi, qual è la difficoltà? Che se io ho preparato o predisposto un programma di formazione agevolata con un fondo interprofessionale, deve essere così. Tu non è che poi oggi lo faccio così, domani lo cambio, dopo Pepito non può venire, callo neanche, allora no, perché? Perché ogni variazione che tu fai lo devi comunicare al fondo interprofessionale e quindi un pochino sei incorsetato a pianificarlo bene, che sia rigoroso e che quel giorno quei laboratori che hai detto che devono venire ci siano lì. Perché è capitato di organizzare un corso con i fondi interprofessionali, aspettare non viene uno, non viene uno e quello che è venuto prima è stato l'ispettore. Che succede? Se non ci sono le persone che tu hai messo nel registro, potrebbe saltare il finanziamento. Per quello, sai, o l'azienda è consapevole che deve rispettare il progetto formativo, o se non diventa, infatti, anche questo potrebbe diventare un ostacolo alla realizzazione di questo finanziamento della formazione. Questo poi ovviamente insieme alla famosa burocrazia che ragazzi veramente ci mette bastoni tra le ruote. E poi ho aggiunto, questo l'ho voluto aggiungere io, le tariffe molto basse per i professionisti che impartiscono formazione. La maggior parte della formazione impartita tramite i fondi va via nei progetti che loro stessi fanno. Quindi il costo, perché costa anche fare un buon progetto formativo che compie con tutti i requisiti previsti dalla norma, costa. E' ovvio che per il docente che è quello che si fa il mazzo, per fare la formazione le rimane poco. Una volta a la direttura se parlava di classificazione dei docenti A, B e C. E mi ricordo che i docenti, voi pensate, nel 1997 quando ho cominciato a essere formato la formazione qui, la tariffa di una docenza stava intorno ai 120 euro. la tariffa di una docenza media sta 40 euro. Allora, se un docente classificato a laureato con esperienza con un curriculum che non ti dico quella volta era riconosciuto e se pagava così, oi, un fondente professionale te lo soñi che te paga questa cifra. E si, e si, va bene, se te da 40 euro l'ora. E allora, per 40 euro l'ora tu che le dai? Un docente però ogni ora che fa di formazione investe 8 euro a preparare i esleida, a preparare il programma, a aggiornarsi sul argomento, deve essere molto bravo anche perché deve essere preparato non soltanto con l'argumento, deve sapere rispondere alle domande, eccetera, eccetera. Bene, e 40 euro l'ora se va bene, quindi questo non va bene. Fondi interprofessionali, mettete bene le batterie perché i docenti bravi devono separati. Bisogna rivedere un po' tutto, insomma, se vogliamo riassumere, l'aiuto c'è, ma bisogna rivedere anche questo. La qualifica dei docenti, eccetera, eccetera. Ovviamente, sulla mancata informazione, consulenza, no, questo programma, questa trasmissione che facciamo, Marisa, un po' vuole aiutare anche in questo senso, poi c'è la consulenza di Wargate. Io ti ringrazio per essere stata con noi anche oggi, grazie mille. E vi ricordo ancora una volta che la consulenza di Wargate per i corsi di formazione è gratuita, quindi ci potete chiamare quando volete, nel senso di devo fare un corso o no, quello, non vi preoccupate perché non vi prendiamo assolutamente niente, quindi chiamateci quando volete, quando mandateci una mail e sarete risposti in tutto quanto. Va bene? Perfetto, Marisa, grazie. Io ovviamente do appuntamento alla prossima puntata di Working Time. Arrivederci. Grazie a voi. 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 Grazie a tutti